L'annuncio è quello dell'applicazione del ticket sanitario nelle prestazioni riabilitative della regione Abruzzo. Una compartecipazione tra regioni, comuni e cittadini che aveva destato polemiche già da qualche settimana. La buona notizia è che il ticket sanitario sarà ristretto solo ad alcune fasce economiche. Quelle di reddito più basse saranno tutelate grazie al reperimento di risorse dai fondi di bilancio senza pesare così sulle spese sanitarie. Un adempimento di legge dal 2001 la regione per le prestazioni più complesse e più gravi continuerà a erogare il 100% con la quota relativa al servizio sanitario regionale e per altre prestazioni a seconda della complessità dal 70 al 40%. La restante quota sarà la cosiddetta quota di compartecipazione dove interagirà un rapporto tra istituzioni, regioni comuni e assistito a seconda del reddito dell'assistito e della famiglia dell'assistito. Nel caso di specie la regione ha ulteriormente contribuito con i fondi del bilancio e non del servizio sanitario regionale e trasferirà la regione questi fondi al sociale che a sua volta con un regolamento, con delle linee liquida, girerà ai comuni una rilevante parte della quota di compartecipazione. Una nota poi rivolta alla ex giunta Chiodi. Ricorda il sottosegretario alla presidenza Camillo D'Alessandro hanno avuto 66 mesi di tempo e responsabilità per evitare quello che sta succedendo oggi. Non possono ergersi ora a difensori dei cittadini. In 100 giorni il centrosinistra è riuscito a reperire le risorse necessarie per non gravare sulle fasce di reddito più basse. Sono 4 milioni per il 2014, sono 15 milioni per il 2015 e 12 milioni per il 2016. 15 milioni dovrebbero rappresentare almeno la metà della quota complessiva, del montante complessivo della compartecipazione che dovrebbe essere di 30 e su questo punto possiamo dire che le risorse le abbiamo trovate perché il prossimo anno, nel 2015, sono a scadenza circa 21 milioni di euro di vecchie cartolarizzazioni e quindi il nostro impegno è impegnare i tre quarti di quelle risorse che ci troviamo tra virgolette a risparmio per il sociale e un quarto a riduzione del deficit come la Corte dei Conti ci chiede. Grazie.